Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV oggi. In primo piano la cronaca incendiarono il furgone paninoteca ambulante dell'esercente rivale in un cortile privato di Battipaglia. Due persone sono state arrestate dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Battipaglia e sono finite ai domiciliari. Sono accusate di danneggiamento ed incendio. Il primo servizio di oggi. Sono due le persone arrestate ritenute responsabili di un incendio ad una paninoteca ambulante a Battipaglia. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale disposta dal GIP di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di Aurelio Schiavo e Giuseppe Impembo, sottoposti entrambi agli arresti domiciliari. Ad entrambi sono stati contestati i reati di danneggiamento e incendio in quanto, secondo la prospettazione del GIP, avrebbero all'interno di un cortile privato del comune di Battipaglia dato alle fiamme un furgone ristorante adibito alla vendita di panini di proprietà di un esercente rivale. I fatti risalgono ad un anno fa, quando il furgone del re dei panini da Gaetano, proprietario di un'attività ambulante nei pressi dello stadio Luigi Pastena di Battipaglia, andò a fuoco mentre era parcheggiato in via Istituto Orientale nel deposito privato dell'ambulante. Sin da subito, da una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Battipaglia, era stata accreditata la pista dell'incendio di natura dolosa. Le telecamere di sicurezza posizionate nella proprietà privata nei pressi del parcheggio hanno poi permesso agli investigatori di ricostruire i fatti. Chiara la scena dove si vede un giovane cospargere di benzina il perimetro del track prima di accendere un fiammifero che ha scatenato l'incendio. Una lite tra due uomini invece a pochi passi dalla scuola di Velina nel comune di Castelnuovo, Cilento, è finita nel sangue. Prima una discussione che pare fosse legata a problemi di viabilità, poi uno dei due ha estratto un coltello ferito, un sessantenne di Vallo della Lucania. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Luca ed è ricoverato in prognosi riservata. Indagano i carabinieri. Un ferito ricoverato all'ospedale San Luca e un sessantenne portato in caserma a Vallo della Lucania e il bilancio della violente lite accaduta questa mattina a Velina nel comune di Castelnuovo, Cilento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il tutto sarebbe iniziato all'interno di una falegnameria situata a pochi passi dall'istituto scolastico di Velina. A quanto pare l'attività commerciale di proprietà del sessantenne fermato dai carabinieri è stata rilevata all'asta da un altro sessantenne originario di Vallo della Lucania e già titolare di diverse attività commerciali nel centro cilentano. La vendita all'asta risalirebbe a qualche mese fa, prima di Natale. Ebbene questa mattina l'ex proprietario si è recato nella falegnameria, probabilmente per riprendere qualche attrezzo, ma tra i due sarebbe nata una discussione subito degenerata in una violenta lite e poi nell'accoltellamento. Il sessantenne di Velina ha colpito più volte il commerciante di Vallo procurandogli una brutta ferita al torace e al braccio sinistro. Immediatamente le altre persone presenti hanno fatto scattare l'allarme. Il sessantenne di Velina è stato fatto allontanare dalla falegnameria. Insieme ad un amico avrebbe raggiunto il parcheggio della stazione ferroviaria situato a pochi passi dall'istituto scolastico e dove aveva parcheggiato l'auto una Citroën bianca. Sul posto sono arrivate due ambulanze dei sanitari del 118. Una ha raggiunto la falegnameria per trasferire il ferito in ospedale. L'altra ha raggiunto il parcheggio della stazione dove sono arrivate anche tre pattuglie dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di Vallo agli ordini del tenente colonnello Santepicchi. Il sessantenne di Velina è stato condotto in caserma per le indagini di rito. L'altro, il commerciante di Vallo, rimasto ferito, è stato trasferito in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la ferita al torace. Indagini in corso dunque per capire che cosa è realmente accaduto fra i due. Incredulità fra la comunità locale dove il sessantenne è conosciuto da tutti. È appena successo. Una persona di Casalvelino ha coltellato un'altra persona. Eh, va mi senso. Cosa ne pensi? Eh, che non voglio pensare. Penso niente. Quasi che succedono. Che feggevo il caffè e lavoravo. E poi ho visto movimenti di carabinieri, di ambulanze, niente più. Ma non sono uscita perché a me non mi interessano tanti movimenti. Ha sentito, ha saputo che cos'è? Non ho saputo niente, ho chiesto, nessuno sapeva niente. Abbiamo chiesto ma non sappiamo niente. Mi hanno detto? Abbiamo sentito solo la sfuriata, ma nulla di particolare. Le macchine le abbiamo sentite transitare e fare, però non so nemmeno di che si tratta. Mi hanno spiegato che cos'è? No, non l'abbiamo saputa perché siamo arrivati in questo momento e non c'è niente. Però non sappiamo niente. Hai visto un po' carabinieri ambulanze? Sì, sì, li ho visti. Ho sentito anche che passavano con le sirene accese. Ho visto anche l'ambulanza. Si sono precipitati dietro la piazza, ma sinceramente non so cosa è successo. Perché io comunque sto lavorando e non ho capito l'accaduto. Ho visto soltanto molto movimento e gente attorno che guardava. È appena accaduto. Ci dicono di un accoltellamento. Non lo so perché prima parlano di una cosa, poi di un'altra, però a quanto so non è successo niente di grave. Spero che non si sia fatto male nessuno, soprattutto se è successo qualcosa, che è la cosa più importante. E voltiamo pagina anche l'assessore regionale al turismo Casucci ha partecipato questa mattina all'incontro interlocutorio convocato dal prefetto di Salerno Francesco Russo per predisporre il piano di viabilità in costiera amalfitana. L'indicazione è di unire il dispositivo che riguarda anche la penisola sorrentina. Per questi motivi tutti i dettagli verranno definiti anche con la prefettura di Napoli. Sentiamo. Ha fatto scula la scelta della prefettura di Salerno di attuare lo scorso anno a partire dai ponti di aprile e maggio le targhe alterne in costiera amalfitana e per tutto il periodo estivo per decongestionare la viabilità sulla statale 163. La prefettura di Napoli ha deciso di utilizzare la stessa strategia per decongestionare la statale 145, la strada che attraversa la costiera sorrentina. Ma c'è di più. Dopo aver presentato il dispositivo per la costiera sorrentina, si punta ora ad un coordinamento con la costiera amalfitana dove la scorsa estate hanno funzionato le limitazioni attivate in modo da realizzare ordinanze con analoghe modalità. Lo scopo è di evitare che possa accadere che lo stesso giorno possano transitare vetture con targhe dispari in penisola sorrentina e pari in costiera amalfitana. Questa è una delle notizie al centro della riunione convocata questa mattina in prefettura Salerno. alla presenza di numerosi sindaci della costiera amalfitana ed anche dell'assessore regionale al turismo Felice Casucci che aveva partecipato anche all'incontro a Napoli. Il provvedimento dovrebbe scattare già entro le feste di Pasqua in modo da poter verificare l'impatto che avrà sulla mobilità prima che la stagione turistica entri nel vivo. stagione sulla quale però la regione ha già garantito anche l'aiuto delle vie del mare come ha ribadito questa mattina l'assessore Casucci. La costiera amalfitana già aveva una propria ordinanza su questo tema. Bisogna capire se è possibile armonizzare le due iniziative affinché i sindaci poi possano adottare ordinanze che sono modificative rispetto a quelle precedenti perché sono più in linea con la continuità della viabilità tra la penisola solentina e la costiera amalfitana. Stiamo analizzando questi aspetti che riguardano anche ovviamente la sicurezza pubblica. Mi sembra ci sia un clima di grande collaborazione. La costiera amalfitana si era mossa anticipatamente. Quindi noi anche a Napoli abbiamo fatto delle riflessioni che tenevano conto di quello che aveva fatto la costiera amalfitana. Però evidentemente vi sono circostanze, situazioni che sono totalmente diverse. Penso alle aree parcheggio che sono molto più significative nell'area sorrentina e meno in quella amalfitana. Dove però torneranno le vie del mare? La regione è già decente. La regione è già finanziata, ha già adottato delle delibere per le vie del mare. Bisogna anche quelle, incrementarle. Noi con Penisola Sorrentina abbiamo il prefetto di Napoli ha anche convocato tutta la parte armatoriale. Qui occorre un grande sforzo pubblico privato, leale, serio, sincero per realizzare gli obiettivi congiunti. Bisogna che tutti quanti facciano maggiore competitività ma siano soprattutto più responsabili. La riunione di oggi ha anche consentito di mettere nero su bianco quelle che sono le principali perplessità alla presenza delle associazioni di categoria che soprattutto hanno chiesto di poter informare subito ed ampiamente visitatori le attività produttive e commerciali presenti anche i sindaci. Presidente Ilardi, sul tavolo del prefetto la proposta di omologare dispositivo Penisola Sorrentina e Penisola Costiera Amalfitana. Ci sono le targhe alterne che già sono entrate in vigore. Si tratta però di capire in che modo verranno applicate quest'anno. Ci sono delle peculiarità delle due zone che naturalmente rendono difficile una completa omologazione. Come Federalberghi abbiamo fatto presente due cose. A, che il dispositivo normativo sia unico, cioè che non coesistano dispositivi dell'ANAS e dispositivi dei comuni che creano grande confusione ai turisti. Due, che il dispositivo unico sia comunicato ai visitatori in tutti i punti di accesso alla regione Campania, quindi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, in più lingue, in maniera tale che nessuno possa essere disorientato nell'accedere alla Costiera Amalfitana. Presidente, si ripete il dispositivo delle targhe alterne che è già stato attuato l'anno scorso e possiamo dire che ha funzionato in qualche modo? Si parte da quello, però il problema è proprio questo. Le deroghe che devono essere applicate e quindi la prima grande problematica. La seconda è andare a individuare i varchi dove filtrare queste deroghe, dove iniziare a controllare. Da chi? La competenza? Da chi e dove controllare. Queste spese sono state quantificate in un'enorme cifra di oltre 500 mila euro. Quando partiranno i dispositivi, sindaco? I dispositivi che riguardano la Costiera Amalfitana partiranno in occasione delle cosiddette feste comandate, dopodiché le targhe alterne saranno in vigore nei weekend tra giugno e settembre, con la sola eccezione del mese di agosto, dove invece sono in vigore tutti i giorni. E sul tema della sicurezza stradale è molto sentito in Costiera Amalfitana, è intervenuto anche il presidente dell'Associazione per la tutela delle vittime della strada Costiera Amalfitana, Salvatore Gagliano. Vogliamo una Costiera Sicura è l'imperativo che parte proprio dalla Divina che ha promosso su impulso dell'Associazione per la tutela delle vittime della strada Costiera Amalfitana un incontro dibattito sulla sicurezza stradale. Costiera Sicura, strade, mobilità, gestione di flussi di traffico, in programma per venerdì 3 marzo alle ore 17 presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino a Salerno. Dopo l'incidente dello scorso 4 dicembre, in cui ha perso la vita il giovane, Massimo De Rosa, padre di una bimba di 3 anni, purtroppo abbiamo dovuto constatare il verificarsi di altri sinistri, per fortuna senza conseguenze mortali. I continui rischi che si corrono sulla strada statale 163 Amalfitana vanno ridotti adottando necessariamente provvedimenti tempestivi, soprattutto in previsione del gran numero di turisti che affolleranno presso le nostre strade. Così il presidente dell'Associazione Salvatore Gagliano, che ringraziando il presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, per aver accolto l'iniziativa, auspica che ci possano essere maggiori controlli in ogni comune, magari partendo da iniziative che già in passato hanno prodotto ottimi risultati, come la presenza degli ausiliari del traffico. Una presenza che però venga prevista da Pasqua a fine ottobre, non soltanto nei mesi più caldi. L'Associazione per la tutela delle vittime della strada costiera amalfitana non intende sostituirsi a nessuno. Questo va chiarito. Restiamo fiduciosi che a livello istituzionale ciascuno eserciterà il proprio ruolo come sempre, così continua Gagliano in una nota. Ma da cittadini di una terra che ha già dovuto piangere tanti giovani è nostro dovere e intento principale tenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, evitando che la costiera amalfitana possa essere scambiata per un circuito motociclistico. Ci auguriamo, ha continuato il Presidente dell'Associazione per la tutela delle vittime della strada della costiera amalfitana, Salvatore Gagliano, che l'incontro possa registrare la più ampia partecipazione delle istituzioni, del Presidente della provincia Franco Alfieri, del Prefetto, del Questore, del Colonnello, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Presidente della Regione Campania, del Direttore dell'ANAS, della Sita, dei Parlamentari eletti nel Collegio della Costiera, di tutti i sindaci e i responsabili degli uffici della Polizia Municipale, oltre a quanti potranno dare un contributo per rendere la costiera amalfitana più sicura, obiettivo che si può raggiungere soltanto se tutti procedono nella stessa direzione. E continua in tutta la città di Salerno il lavoro dell'ufficio di segnaletica stradale per rifare le strisce pedonali, ma anche i dissuasori orizzontali per il rallentamento 60 in tutto gli attraversamenti che saranno rivisti. Anche oggi lavori in corso nella parte centrale del Comune di Salerno per il rifacimento degli attraversamenti pedonali che riguardano tutta l'area tra il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno e di Lungomare. Saranno 60 in particolare gli attraversamenti che verranno ridisegnati e nei tratti ritenuti più pericolosi preceduti anche da bande sonore orizzontali che consentiranno alle automobili di limitare la velocità. Ma non solo, è stato previsto anche di inserire dei limiti di velocità orizzontali e anche dell'apposita segnaletica luminosa che con un analogo obiettivo sensibilizza gli automobilisti a viaggiare a velocità molto ridotte. È una delle strategie adottate dall'amministrazione comunale di Salerno per limitare il numero di incidenti stradali che continuano a verificarsi nel Comune Capoluogo. L'assessore alla sicurezza Tringali ha messo a punto con il Sindaco il piano per il rifacimento delle strisce approvato anche dalla Commissione Mobilità guidata da Rocco Galdi. Si va avanti nonostante alcune polemiche relative al fatto che per alcuni attraversamenti si chiedeva una rivisitazione. È il caso del passaggio al Teatro Verdi dove poche settimane fa una ricercatrice universitaria fu investita e uccisa. Intanto, a proposito di incidenti stradali questa mattina ancora un tamponamento sulla tangenziale che ha visto coinvolte tre autovetture ed ha paralizzato il traffico dopo le 8.30 di questa mattina in direzione nord. Il traffico si è completamente fermato tra gli svincoli di Mariconde e Pastena in un onario già di intensa circolazione. Il tamponamento è avvenuto proprio a pochi metri dall'uscita di Pastena. È stato necessario l'intervento delle pattuglie della Polizia Stradale e dell'ANAS. Ed ancora cronaca, Domignano ancora ladri in azione. Questa volta erano in procinto di rubare pannelli fotovoltaici in un'azienda ma sono stati messi in fuga dalla vigilanza privata. Ancora un tentativo di furto sul territorio occidentano. Questa notte i malviventi sono entrati in azione tra Omignano e Dorria all'interno di un campo fotovoltaico di un'azienda del posto. Il colpo è stato sventato solo grazie al tempestivo intervento degli agenti dell'Istituto di Vigilanza alla Torre presenti con due auto un'arrivata da Vallo della Lucania l'altra da Santa Maria di Castellabate. I vigilanti hanno messo in fuga i ladri. È accaduto questa notte poco dopo le 12 è scattato l'allarme di sicurezza e in pochi istanti l'intervento della pattuglia della vigilanza che ha messo in fuga i malviventi. Un altro colpo sempre nella notte è stato sventato a Felitto dove due uomini hanno provato a raggiungere l'interno di un'abitazione della zona per mettere a segno un furto ma al primo piano dell'immobile preso di mira dai ladri vi è la pasticceria di proprietà della stessa famiglia è stato proprio dalle videocamere di sorveglianza dell'esercizio che la titolare mentre lavorava ha scorto delle presenze sospette nel retro della struttura. Allarmata dalle immagini la donna si è precipitata fuori dal negozio per capire quanto stesse accadendo e immediatamente si è resa conto che due uomini stavano provando ad arrampicarsi approfittando del fatto che quella parte dello stabile fosse in costruzione per raggiungere il balcone ed introdursi così nell'appartamento. Le urla della donna hanno attirato gli altri residenti che sono accorsi sul posto e hanno visto che i due uomini avevano raggiunto la zona a bordo di un Alfa Romeo Giulietta di colore bianco. Si tratta dello stesso tipo di auto che qualche giorno fa il sindaco di Laurino Gregorio Romano aveva segnalato come sospetta mettendo in guardia i cittadini. I due uomini dopo essere stati scoperti si sono rimessi nella vettura per darsi alla fuga. Il Tar Campania ha accolto il ricorso presentato dalla regione Campania contro le nomine del Parco Nazionale del Cilento degli Alburni e Vallo di Diano al momento la nomina del commissario straordinario è stata dichiarata illegittima. Cambio di rotta ai vertici del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni la nomina da parte del Ministero dell'Ambiente di Marcello Feola commissario è illegittima. Così si è espresso il Tar di Salerno sul ricorso presentato dalla regione Campania. Dopo meno di tre settimane si appresta a chiudersi almeno per il momento l'esperienza di Feola che nei giorni scorsi ha incontrato a Pestum il ministro della cultura San Giuliano alla guida dell'area protetta più grande d'Italia. Ieri pomeriggio è arrivata la decisione dei giudici amministrativi che hanno accolto i ricorsi relativi alle nomine dei commissari sia del Parco del Cilento che del Parco del Vesuvio poiché è avvenute senza l'attivazione dell'intesa con la regione e ha ordinato al ministro di sottoporre una terna di nominativi come prevede la legge in tempo utile a consentire al presidente della regione di esprimere l'intesa entro il 22 febbraio sulla nomina degli organi ordinari dei due enti parco. Il commissario resterà dunque in carica ancora una settimana il dopofeola al Parco è ancora da decidere l'azione del Parco nazionale rischia di restare paralizzata se in tempi rapidi non si troverà l'intesa sulla terna di nomi che il ministro dell'ambiente dovrà presentare al governatore. Dal canto suo Vincenzo De Luca sul caso Feola era stato chiaro sin dall'inizio anzi ancora prima che l'incarico dell'avvocato originario di Campora venisse ufficializzato aveva precisato quando arriverà l'ufficialità valuteremo le correttezze della procedura perché è indispensabile l'intesa con la regione nominare un commissario non deve essere un modo per aggirare le regole valuteremo se non ci sono ragioni per nominare un presidente detto fatto il ricorso è stato presentato ed accolto ora il Consiglio di Stato potrebbe sospendere il provvedimento anche se da Palazzo Santa Lucia hanno presentato ricorso anche alla Corte Costituzionale ora chiediamo al Ministro di provvedere immediatamente nel rispetto della legge ripristinando la continuità dell'amministrazione e la regolarità della gestione dei parchi è il commento del deputato PD Piero De Luca da Fratelli d'Italia poche parole ma significative da parte del senatore Antonio Annone l'acqua sempre al mare deve andare la coalizione di centrodestra deve ora trovare l'intesa e stringere il cerchio sui tre nomi non è escluso che lo stesso Feola possa essere inserito nella lista che il Ministro Frattin presenterà a De Luca per il via libera sul nuovo presidente passaggio che con la nomina del commissario era già stato saltato è scattato anche quindi il toto presidente fino a qualche settimana fa diversi nomi che circolavano come indiscrezioni dal sindaco di Santa Maria Policastro Giovanni Fortunato all'ex sindaco di Castellabate Costabile Spinelli da Michele Bonomo già presidente di Lega Ambiente Campania a Simone Variante si dovranno rimescolare le carte San Valentino Torio eletta città degli innamorati con la festa patronale in onore del santo degli innamorati San Valentino prete e martire chiude oggi la Quermesse San Valentine in Love un ritorno alle tradizioni con musica e percorsi gastronomici sentiamo l'amore trionfa e torna a riscaldare le strade di San Valentino Torio il piccolo borgo campano dedicato al santo patrono degli innamorati fino al 14 febbraio settima edizione di San Valentine in Love la statua di San Valentino che campeggia in piazza a Mendola da giorni è luogo di pellegrinaggio per giovani coppie promessi sposi o per chi l'amore lo vive da anni e vuole essere benedetto don Alessandro Cirillo parroco della chiesa di San Giacomo finalmente ritorniamo a gustare la parola amore l'amore anche che si esprime nella preghiera nella devozione verso il santo degli innamorati che è San Valentino e anche attraverso con la Kermess San Valentino in Love che quest'anno certamente riscopre sapori le luci di artista gruppi musicali teatrali ecco un modo per vivere e stare insieme dopo la sosta forzata per il covid ritorna quindi la romantica Kermess fatta da eventi religiosi ma anche luminarie bancarelle e cioccolato e la storica sagra da purpetta e pastenaca è una tradizione perché già prima della guerra qui a San Valentino nella zona si coltivava la pastenaca oltre che poi dopo c'è stata la coltivazione del pomodoro in particolare però la pastenaca si coltivava ed era un alimento importantissimo per le famiglie di allora queste nonne queste mamme facevano le polpette con le verdure è nata la polpette di pastenaca e quindi ci vogliono un chilo di carote un chilo e mezzo di pane formaggio grattugiato pecorino 150 200 dipende quando c'è il gusto delle persone un pizzico di sale e pepe un paese che parla di amore universale che lancia un messaggio di pace al mondo e di vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia così il sindaco Michele Strianese il pensiero va appunto a tutti coloro che soffrono in questo momento in Ucraina e non solo in Turchia per questo terribile terremoto ma amarsi non è solo provare un sentimento ma anche aiutare il prossimo durante i giorni di San Valentino in Love organizzata una raccolta di sangue per gli ospedali da parte dell'associazione Frateres Formisano così Maria Rosaria Formisano ha i nostri microfoni ho lavorato sempre nei reparti di emergenza e quindi ho visto con i miei occhi cosa significa la sofferenza nei letti di ospedale quindi invito tutti a mettere in moto il dono ed ora è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica la pagina degli appuntamenti e tra poco parleremo di sport non è andata bene alla Salernitana ieri la trasferta a Verona si rimette tutto in discussione ma ne parliamo tra pochissimo subito dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme cosa ci riservano le previsioni del tempo ristorante Eureka i sapori del mare previsioni per domani al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli sereni nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli sereni previsioni previsioni del tempo fornite da 3b meteo la pagina dello sport ci occupiamo di calcio la Salernitana ha perso un importante scontro salvezza a Verona e dopo una notte di riflessioni è pronta a cambiare guida tecnica la sconfitta del Bente Godi costerà per la seconda volta in poche settimane la panchina Davide Nicola il presidente di Ervolino e il DS De Santis sono impegnati nella scelta del nuovo allenatore sentiamo la sconfitta di Verona costa per la seconda volta in poche settimane la panchina Davide Nicola gli subentrerà con tutta probabilità Beppe Iachini al tecnico piemontese era già stato fatale il fragoroso K.O. di Bergamo dopo il quale arrivarono l'esonero ed il subitaneo reintegro a Verona però la parabola ingranata di Mister Salvezza si è arenata una serata amara per i tifosi la squadra della società costretti a fare i conti con una classifica preoccupante ma non ancora pericolante ha portato ad una notte di riflessioni e valutazioni il nome di Francesco Farioli è intrigato non poco l'attuale tecnico della Tania Sport 34 anni ad aprile è considerato il nuovo che avanza cresciuto con De Zerbi Farioli uno studioso scrupoloso e maniacale un lavoratore appassionato e curioso che si dedica 24 ore su 24 al calcio sotto contratto con il club turco della Tania Sport Farioli è entrato con forza nella Granata calveggiato da Morgan De Santis pronto a spuntare su di lui anche per il futuro ora però c'è da pensare al presente che è proprio una squadra in crisi confusa e confusionaria come è stata l'andazzo di questa stagione in cui la società la dirigenza il tecnico calciatori hanno tutti la loro fetta di responsabilità per i processi però nel calcio non c'è tempo e meno che mai ora con 16 gare ancora da giocare è una salvezza tutta da conquistare dopo aver sprecato un margine in doppia cifra di vantaggio sulle inseguitrici dopo aver offerto prestazioni senza mordente senza idee dopo aver collezionato solo 5 punti in 10 partite la Sanitana si è fatta risucchiare anche nel vortice della lotta salvezza da tempo però c'era e c'è un altro vortice quello di tensioni e frizioni interne che si è trascinato pericolosamente fino a questo momento palesandosi all'esterno con tutti quei comunicati in cui si asseriva di consolidate avvenute pacificazioni per finire con la lettera a cuore aperto scritta di suo pugno da Davide Nicola per convincere il presidente Danilo Ierbrino a dargli nuovamente fiducia è durata poco e non ci si deve meravigliare di ciò perché al di là della gara di Lecce la Sanitana non ha cambiato mentalità non ha dato l'impressione di voler mangiare l'erba di aver ritrovato fame e compattezza ingredienti indispensabili per chi lotta per la salvezza mancando i quali diventano ancora più evidenti i limiti nella costruzione di un gioco efficace e ridizio senza idee senza gioco senza gambe senza testa poco abituata a lavorare sul campo visto che ad esempio le doppie sedute di allenamento sono state una rarità assoluta durante la stagione fatte salve le settimane di ritiro questa è la fotografia della Sanitana attuale dalla Turchia però la comittiva grata non è certo tornata carica tonica affamata anzi il mese di gennaio è stato avaro di risultati ancora più deludenti sotto l'aspetto delle prestazioni scollata sfilacciata di allenata al suo interno divisa in tanti rivoli in troppe anime la Sanitana ha scelto la strada peggiore quella del provare a conservare una sorta di statu quo che non poteva che riservare sconfitte e delusioni dopo una notte di riflessioni questa mattina il presidente di Repolino ha fatto il punto della situazione con la Di Milan e il DS De Santi sta ascoltando anche il parere dell'unico leader unanimemente riconosciuto Frank Ribéry il francese a Firenze ha conosciuto ed apprezzato Beppe Iachini allenatore serio lavoratore specialista nelle rimonte in carriera ha vinto tanto in B ed allenato in piazze importanti anche in massima serie il DS De Santi si ha proposto una soluzione che desse la precedenza al momento alloggio al presente Iachini da ampie garanzie sotto questo punto di vista dopo gli approcci di gennaio ora il tecnico a Scolano classe 64 tratta la risoluzione col Parma per poi legarsi alla Sanitana accordo a tempo poi a salvezza raggiunta si valuterà il da farsi anche se nei programmi futuri ci sono altri nomi ora però c'è da salvare con dedizione umiltà e spirito di sacrificio la categoria bisognerà davvero sputare sangue lavorare tanto sul campo stare insieme ritrovare serenità e compattezza Beppe Iachini una vita da mediano cappellino sempre calcato in testa ne ha viste tante in carriera ed è pronta ad una nuova sfida una missione chiamata salvezza da portare a termine dando alla squadra gli strumenti giusti per suonare lo stesso spartito con l'aiuto della società e del pubblico che chiedono alla squadra di meritarlo fino in fondo perché come si è sempre detto la Sanitana viene prima di tutti e tutto lavoro, impegno, sudore e silenzio e la ricetta per uscire dalla crisi è semplice Ed ora ascoltiamo l'analisi di Davide Nicola dopo la sconfitta ieri sera al Bente Godi il tecnico piemontese ha parlato di scarsa determinazione dei suoi nel cercare di riportare in equilibrio la partita perché? perché indubbiamente come chiamo degli errori sia individuali che di lettura di predisposizione ma questa è un po' la caratteristica che si è manifestata durante queste partite e sulla quale noi comunque stiamo cercando di lavorare ora stasera non dovremmo essere esclusivamente arrabbiati per il fatto che questa partita la potevi portare a casa nel pareggio finale e anche quella è determinazione perché non è solo l'errore magari difensivo è anche la volontà di di sfruttare quelle occasioni che ti si presentano per cercare di essere più cattivi sotto porta più determinati perché sai che comunque la partita è una partita importante ci sono alcune partite che sono più importanti di altre e questa era una di quelle devo dire che poi sostanzialmente noi nel computo generale degli scontri diretti non è che siamo messi male però questa è una partita altre sconfitte le ho accettate questa non mi va giù perché perché secondo me si poteva fare di più e si doveva portare via un punto ma intanto noi abbiamo avuto un calendario ripeto sempre poi sai a me non piace neanche spiegare la motivazione io so benissimo che dalla sosta abbiamo incontrato squadre molto impegnative e abbiamo fatto punti con le squadre che probabilmente erano più o meno al nostro livello stasera secondo me il Verona non è una squadra superiore a noi è una squadra con la quale tu puoi competere ecco perché ci deve fare nervosire il fatto di non aver provato via un punto però è anche vero che questa squadra non è a un livello superiore questo è il suo campionato solo che probabilmente l'aspettativa generale si manifesta pensando di ottenere magari qualcosa di più subito io sono convinto che questa squadra abbia i mezzi per salvarsi e quello farà perché questa squadra ha i mezzi per salvarsi e lo farà io sono no no io sono convinto di questo intanto e poi vediamo mister le scelte tattiche la scelta di tornare a difesa a tre c'erano state degli avvisagli in settimane se ce la spiega perché poi Coulibaly in panchina era stanco lo aveva in qualche modo detto dopo l'ultima partita la scelta di Cernigoi che forse deve ancora integrarsi appieno nei movimenti e poi anche immagino scelta tecnica il discorso di Ochoa fuori e sepe dentro grazie no su Ochoa il discorso è molto semplice quando è stato preso la società ha detto che insomma avrebbe dovuto darci una mano e quindi fino a rientro di sepe e quindi a questo momento dal momento che è un ruolo particolare dove ci sono delle gerarchie sepe ha completato il recupero nella settimana contro la Juventus e giustamente ha preso il suo posto da adesso in poi sarà una valutazione abbiamo due ottimi portieri secondo me e da questo punto di vista lo fa squadre come la Juventus non vedo perché non dobbiamo farlo noi mi chiesto anche altre scelte Coulibaly da quando sono io qua praticamente non ha mai saltato una partita obiettivamente tanto che che spinge sull'acceleratore quindi aveva bisogno anche di fare magari un tempo di riposo che poi non riposano mai perché alla fine comunque per i ritmi delle partite sono sempre anche il giocatore che non gioca 90 minuti e poi utile magari a partita in corso e da questo punto di vista Cerenigoi aveva fatto secondo me un'ottima settimana è un giocatore che ha delle qualità che deve integrarsi e gli è stata data la possibilità io ripeto sono convinto che questa squadra abbia ampi mezzi per salvarsi è chiaro che noi dobbiamo migliorare assolutamente la determinazione con cui poi portiamo via dei risultati che devono essere molto importanti per noi e migliorare sicuramente ciò che concediamo perché al di là del volume di quello che si concede comunque è un dato di fatto che stasera la prima occasione che è concesso e subito gol quindi questo è un dato di fatto Ed ora ci occupiamo di basket improvvisa scossa sulla panchina della Givova Scafati coach Attilio Cai ha comunicato alla società la sua decisione di dimettersi dal ruolo di capo allenatore per motivi personali la società seppur con rammarico e dispiacere accetta le dimissioni ringrazia l'allenatore per il lavoro espletato e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera patron Longobardi e la dirigenza tutta stanno ora vagliando una rosa di nomi per colmare la lacuna in panchina nelle prossime ore arriverà la comunicazione ufficiale circa il nome del nuovo coach della Givova Scafati e domani invece torna in campo la Power Basket Salerno la squadra del presidente Luca Renis prima in classifica nel campionato di Serie C Gold sarà impegnata domani sera alle 20 alla Pala Silvestri di Matierno nella gara secca dei quarti di finale della Coppa Campania contro il Sant'Antimo la nasce un sorriso 92 si conferma in vetta la classifica di B femminile ed espugna il Palacorvo contro l'edilizia innovativa Catanzaro centro basket finisce 36 a 62 al termine di una gara che ha evidenziato ancora una volta l'abilità difensiva delle Granatine brave anche a soffrire nel momento di prolungata sterilità offensiva evitando il rientro avversario Salerno porta a casa un successo importante dalla Calabria ed ora guarda alla prossima sabato 18 febbraio tra le mura mica del Pala Silvestri arriverà Sant'Antimo attualmente quarta in graduatoria e in chiusura l'hockey su pista poteva vincerla ha rischiato di perderla alla fine la pareggiata la Campolongo Hospital Roller Salerno conquista un pirotecnico 3 a 3 nel match casalingo contro la gamma Innovation Sarzana un punto che consente alle due squadre di salire a quota 7 in classifica confermando l'equilibrio tra i due club che si è visto anche sabato sera sulla pista del Palatulimieri ma ascoltiamo in proposito il capitano Giuseppe Giudice si è stata una partita combattuta diciamo che saranno così tutte le partite per noi fuori casa è ancora più difficile fuori casa è difficile fare punti perché viaggiamo e poi giochiamo e torniamo subito a casa quindi la stanchezza del viaggio in casa in casa lotteremo con tutti fino alla morte si è visto stasera peccato poi gli episodi potevano andare meglio potevano andare peggio quindi un punto che fa morale ci dà morale dopo la sconfitta dei Forte dei Marmi sconfitta pesante penso che stasera abbiamo dimostrato che ce la giochiamo siamo a livello del torneo diciamo ci sono solo due due formazioni forse che hanno qualcosa in più delle altre e con il resto ce la giocheremo tutta la morte soprattutto in casa ecco avevate anche un'assenza importante quella di un giocatore esperto come esposito però i più giovani hanno dato comunque un contributo importante segno che il progetto della Roller Salerno sta crescendo sì sì abbiamo due giovanissimi all'esordio Giorgio Giudice mio fratello e Gianmarco e quindi non è facile per loro perché te l'ho detto il campionato è di livello e tutte le formazioni sono belle formazioni squadre giovani esperte a noi stasera si è sentita anche la mancanza di Daniele che è un elemento esperto e sicuramente ci dà una mano sia in difesa che in attacco peccato peccato c'è un po' di rammarico però te l'ho detto poteva andare meglio poteva andare peggio quindi un punto che fa morale e muove la classifica e con la pagina dello sport termina qui questa edizione del nostro telegiornale al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti vi rimando alle prossime edizioni grazie come sempre per averci preferito e arrivederci vuoi rivedere questo proclama? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand grazie a tutti grazie a tutti